Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tiposo Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Stasera alle 20.45 la nazionale di Roberto Mancini riparte dalla sfida a Portogallo Il CT vuole un'Italia più offensiva Ecco allora chiese dal primo minuto Me lo avete chiesto, lo faccio giocare Ma non si fermano qui le sorprese perché il primo esordio potrebbe arrivare anche per Benassi Il capocannoniere della Serie A potrebbe infatti prendere il posto di Gagliardini in mediana E dare così maggiore offensività al centrocampo di Mancini La Serie A Viola ripartirà quindi dalla trasferta di Napoli In terra partenopea Pioli ritroverà finalmente Veretout Il francese, lontano ormai quattro mesi dal campo, sembra carico come non mai Guardare i compagni della tribuna mi ha dato abbastanza fastidio Non ne posso più di aspettare Il francese ha parlato anche di obiettivi Viola L'anno scorso siamo rimasti delusi per essere rimasti fuori dall'Europa Lavoriamo ogni giorno per centrare quell'obiettivo Perché la Fiorentina è una grande squadra e deve stare lì Per Fiorentina1.com, Gianmarco Fusi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola